Siamo qui oggi con Maddalena e Giada dopo la partita vinta 2-1 con Lucky Ver. Partita difficile oggi. Diciamo che all'inizio siamo partiti molto bene. Nel secondo set abbiamo fatto casino, confusione, perché non chiamavamo la palla, pure sbagliavamo le battute schiacciate, però al terzo set ci siamo ripresi. Adesso ci aspetta il giro delle prime. Sì, sarà sicuramente più difficile di questo, incontreremo tutte le prime e per noi saranno partite molto importanti e non dobbiamo mollare come abbiamo fatto nel secondo set. Dovremmo crescere molto. In bocca al lupo per le prossime.